il macbook senza senso il 16 pollici mancato questo è quello che inizialmente si potrebbe dire guardando questa questa macchina in realtà no non è proprio così sì magari le differenze rispetto al modello precedente non sono poi così tante da giustificare un eventuale upgrade ma anche lei anche questa macchina ha da dire la sua così come io ho da dire la mia nella sua recensione macbook pro 2019 15 pollici con touch bar detto ciò iniziamo questa recensione sarà suddivisa in più punti potete seguire il punto che vi interessa maggiormente seguendo i minutaggi ma vi consiglio di guardare il video per intero per avere un quadro più completo esteticamente lo state vedendo non cambia nulla dei modelli precedenti in quanto i cambiamenti sono presenti tutti all'interno nonostante non abbia un design tra virgolette recentissimo fa ancora la sua sporca figura l'ho definito un lingotto di alluminio piccola parentesi lo tratto in maniera davvero maniacale tutto il corpo appunto è in alluminio quando lo si tiene in mano si avverte un senso di grande solidità di grande robustezza non flette non scricchiola e tra l'altro anche un peso ben distribuito pesa un chilo 800 grammi ottimo sì per la sua portabilità infatti nella sua categoria lui è tra i più compatti questo ecco è anche aiutato dal fatto che il display è quasi senza cornici e tenete a mente questa frase perché la riprenderemo verso la fine del video ecco qualche volta ho rimpianto il 13 pollici il 15 per qualche situazione risulta essere più macchinoso ecco il 13 invece ha dalla sua parte proprio le dimensioni ridotte all'osso e piccola considerazione il 13 pollici esteticamente mi piace anche di più lo trovo più proporzionato invece sul 15 questa tastiera non so me la vedo tipo incassata ecco poi vabbè c'è il trackpad ad alcuni piace ad altri no per le dimensioni sinceramente io lo trovo perfetto non ho mai utilizzato un trackpad in tutti i portatili che ha avuto mentre sul mac uso per la maggior parte delle volte solamente lui è grande il dito scivola bene poi il force touch è comodissimo ho citato prima la tastiera e anche qui un po amore odio per tutti c'è chi l'ama la follia chi l'odia a morte io ecco provengo da sei mesi di questa cosa qui quindi inizialmente non mi trovavo affatto con questa tastiera con questa corsa molto molto bassa poi però utilizzandola quotidianamente mi sono abituato e sì è veloce si scrive bene non si fanno errori cosa che apprezzo particolarmente anche la retroilluminazione precisa sotto ogni kick up e anche il sound che ora è piacevole ascoltate e non come il modello 2016 che di notte svegliava tutto il condominio però nonostante questa quarta generazione di tastiera i modelli 2019 sono già stati inseriti nel programma di riparazione tastiere di apple ok ottima cosa avere la riparazione gratuita da apple ma questo significa che anche in questa generazione sono presenti dei problemi che per il momento e spero mai non ne ho mai avuti e poi c'è la touch bar ennesimo elemento tra amore e odio personalmente mi sto ancora abituando ad utilizzarla però effettivamente per qualche funzione risulta essere comoda suggerimento delle emoji o anche in safari per passare tra una scheda all'altra in photoshop o final cut per gestire alcune funzioni alcune opzioni e anche per la gestione del player video sfortunatamente però non ci sono molte app che la supportano e tra quelle che ci sono ecco parlando invece degli speaker ecco basterebbe solamente citarli perché non ho davvero nulla da dire sono fenomenali credetemi quando vi dico che utilizzo il mac come una cassa hanno un volume molto alto e il suono è bello pieno corposo ovviamente peccano un po nei bassi ma mi sembra anche comprensibile in un centimetro e mezzo di portatile ecco non credo che ci sia posto per inserire un driver più più grande e poi c'è questo display incredibile da 15,4 pollici è una goduria guardarlo è molto definito è lucido sì ma sotto la luce del sole comunque si vede molto bene anche se ecco un briciolo di luminosità in più non avrebbe guastato aspect ratio 16 decimi 2880 x 1800 220 ppi e molti profili colore già di base presenti comodo night shift un po una cavolata al true tone perché adatta il punto di bianco alla luce ambientale cosa ecco comoda per lavori di ufficio perché si aiuta ma per lavori come foto editing video editing va disattivata perché appunto falsa i colori e sopra lo schermo c'è lei questa webcam che non è degna di essere chiamata così è solamente hd ma per facetime il suo scuolo principale più o meno ci sta però considerando anche il fatto che apple si è riuscita ad inserire fotocamere incredibili sui suoi iphone beh una fotocamera anteriore simile comunque me la sarei aspettata anche su questo mac considerato anche il costo ci sono le vediamo e ne parliamo ovvero le 4 usb c o meglio le 4 thunderbolt 3 la differenza sta nella larghezza di banda che è di 40 gigabit per secondo e non di 10 stanno uscendo sempre più prodotti compatibili con questo standard ora non è più un grandissimo problema come lo era qualche anno fa rimane un grande fastidio quello sì ma bisogna conviverci ecco bisogna arrangiarsi con questi cosi qui trovate il link in descrizione tra l'altro thunderbolt 3 alla quale può essere anche collegata una gpu esterna velocemente vi ripeto le specifiche tecniche di questa unità ovvero in 9 fino a 4,8 gigahertz 16 gigabyte di memoria ram amd radio pro 560x da 4 giga ssd da 512 gigabyte e batterie da 83,4 watt ora qualcosina in merito alle performance ve l'accennai qualche settimana fa ma ora cerchiamo di essere più pegnoli più precisi come sto ripetendo spesso in questo video amore e odio due opposti anche per quanto riguarda le performance questa macchina è a due facce in contesto d'ufficio comunque iwork safari netflix applicazioni comunque non tanto energivore la cpu fa il minimo indispensabile sta attorno ai 35 gradi ma comunque il telaio è freddo e si fanno dalle 6 alle 9 ore questa è però la prima faccia in quanto girando la medaglia ecco le cose cambiano spremendolo infatti con lavori pesanti quindi photoshop lightroom final cut contesti per cui è nata questa macchina lui inizia a consumare tanto quindi questo significa avere anche temperature più elevate sebbene è come aspettarsi di peggio comunque si arriva attorno ai 50 gradi mentre si monta un video 60 dopo una bella sessione prolungata comunque scaldicchia soprattutto qui nella zona sopra la touch bar e anche sul retro infatti dopo più o meno un'oretta non è proprio il massimo è un po fastidioso tenerlo sulle gambe temperature che tra l'altro possono anche raggiungere gli 80 gradi soprattutto però in rendering per la maggior parte del tempo le due ventole stanno attorno ai 2000 giri ma carico pesante loro girano al massimo quindi circa 5900 giri e si sentono terminato il lavoro però di nuovo silenzio assoluto e in questo contesto si fanno circa due ore e mezza con la batteria in tutto ciò la cpu lavora sempre a frequenze molto basse massimo sui 2 gigahertz solo qualche volta si spinge oltre i 4 infatti proprio per questo secondo me non ha senso investire sull'innovo e maxato si possono fare altri investimenti ma del prezzo e di quest'altra questione parleremo verso la fine è una cosa stupida ma velocemente ve ne parlo ovvero del gaming ok chi acquista questa macchina non lo fa assolutamente per giocare per giocare ci sono altri prodotti vedi la bestiolina qui dietro mi sono invitato a provare solamente qualche titolo anche perché tutti i giochi ce li ho per windows non per mac appunto banalmente il solito minecraft che è tutto al massimo sta sui 60 fps con picchi anche sui 150 barra 200 e per la prima volta in assoluto ho provato fortnite ma lì non ci siamo in quanto tutto al minimo stiamo sui 30 fps con qualche picco sui 50 in 1080p stiamo sui 15 ma in generale le performance ripeto gaming a parte sono buoni ma sono spesso limitate da questo telaio a inizio del lavoro la cpu sfrutta tutto il suo potenziale quando però le temperature iniziano a salire il clock inizia a scendere per appunto contenerle un po' e solo dopo cerca di risalire infatti a volte si vede la cpu schizzare su e giù e di questo ovviamente ne risentono anche le performance finali tra l'altro ecco un piccolo resoconto dei vari benchmark che ho eseguito il consumo massimo assoluto l'ho avuto proprio in questi test con 80 watt su presa cpu a 4,2 barra 4,6 ghz e temperature che hanno toccato anche i 90 barra 100 gradi eppure c'è da dire mai avuto un blocco uno dei tanti motivi per cui decisi di acquistare proprio un macbook pro è l'ecosistema apple se ti ci trovi bene difficilmente lo abbandoni e per ecosistema intendo tutti quei servizi correlati all'utilizzo di un prodotto apple ad esempio air drop end off i message sia un workflow migliore ma questo non vale solamente con hardware prodotto da apple ma soprattutto questo vale anche con il software lavorare con final cut pro o logic pro al posto di non so premiere o fl studio ottimizzerà tutto il nostro lavoro perché questi così come altri software sono progettati per poter girare su queste macchine su questo specifico hardware su mac os e quindi sono meglio ottimizzati esempio pratico questa è una clip in 4k di 10 minuti la butto nella timeline di premiere di final cut la metto a velocità doppia ci applico un filtro la esporto e final cut me la salva in 5 minuti netti invece premiere pro il doppio nella quotidianità un mio video di circa 10 minuti final cut me lo esporta in circa 7 massimo 15 poi dipende anche dal numero di effetti che ci applico dalla risoluzione e altri fattori comunque risultati molto molto buoni l'ottimizzazione questo è un altro fattore del perché queste macchine costano troppo perché sì considerando solamente le componenti il prezzo è troppo elevato considerando anche questi altri fattori diciamo che il costo è maggiormente giustificato ma alla fine di tutto cosa penso di questo laptop becco bisogna accettare dei compromessi ma la macchina in sé è un insieme di compromessi credo l'abbiate capito in questo video se disposte ad accettare questi compromessi ok sì si può valutare l'acquisto di un prodotto del genere ma se la risposta dovesse essere no beh credo che la scelta avrebbe meno senso riprendo il solito esempio del montaggio video final cut in qualunque situazione distrugge premiere pro anche se dovessimo avere un laptop windows magari anche più costoso ma in generale un mac con final cut avrebbe comunque risultati molto molto buoni altro esempio pratico ci sono persone che montano video in 4k col 13 pollici base che ok ora ha cpu quad core ma fino a un anno e mezzo fa c'erano solamente dual core capite bene ma ritornando alle considerazioni finali sì questo laptop mi è piaciuto mi hanno soddisfatto le performance il display la batteria mi fa ancora strano un po utilizzare la tastiera mi manca soprattutto il tastierino numerico webcam ripeto bocciata a causa di questo telaio la cpu a volte è castrata la touchbar ha del potenziale sì ma non viene sfruttato per non parlare delle usb c ok tutto questo per un prezzo di partenza di 2800 euro questa versione maxata che tra le varie versioni configurabili credo che sia un ottimo compromesso costa 3300 euro per arrivare poi alla versione top overkill che costa 6000 euro anche se prima costava di più apple deve aver abbassato i prezzi lo so fa strano dirlo ripeto è una macchina costosa troppo costosa ovviamente in questo prezzo non c'è solo il costo della componentistica ma anche l'occhio vuole la sua parte questo si paga ci sono i servizi apple e questi si pagano c'è mac os che indirettamente appunto così si paga e soprattutto c'è l'affidabilità e la maestria dell'assistenza apple che beh se avete provato almeno una volta saprete giudicare da voi conviene l'acquisto beh no o almeno non quando è stata pubblicata questa recensione visto che si vociferava ormai non più tanto che apple a settembre baro ottobre avrebbe potuto presentare un nuovo mac pro da 16 pollici con schermo borderless più figo e altre novità quindi magari converrebbe prima vedere cosa succede a settembre vedere un nuovo modello qualora dovesse essere rilasciato e poi ecco pensare ad un eventuale acquisto di tutto questo ora se ne parla meno sì ma verso giugno questo rumor era bello insistente ma sapendo tutto questo perché due mesi fa ho comunque acquistato lui beh intanto perché in quel periodo mi è convenuto acquistare questo modello ma anche perché se vuoi cifre che 16 pollici potrebbe partire da 3000 dollari quindi non proprio il massimo oltre al fatto che le novità dovrebbero essere più che altro estetiche ma come hardware dovremo essere più o meno lì design ok sarà più figo borderless ma ripeto ancora oggi lui fa la sua sporca figura e poi anche lui ben presto subirà un piccolo restyle comunque non si sa altro non dico altro staremo a vedere detto ciò io spero che questa recensione vi sia piaciuta condividetela il più possibile fatela vedere a chiunque perché per realizzarla ci ho impiegato davvero tantissimo tempo ci ho messo davvero anime e cuore e soprattutto una grandissima mano al portafogli quindi vi chiedo di lasciare un like al video di commentarlo magari facendomi anche sapere che ne pensate voi di questa macchina condividete il video un po' ovunque seguitemi sui veri social anche per eventuali aggiornamenti sul macbook il link come sempre il trovate qui sotto in descrizione iscrivetevi al canale noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video ciao ciao ciao